Di Bala non fa drammi dopo l'1-1 di il messaggio social che carica la Roma. Roma l'ottavo gol in campionato di Paolo Di Bala non è bastato alla Roma per portare via i tre punti dal campo del Lecce. Raggiunto su rigore dall'argentino dopo l'iniziale autorete di Ibanez ma capace poi di difendere il prezioso pari contro la squadra di Jose Mourinho fino al triplice fischio dell'arbitro. Lecce-Roma 1-1, statistiche e tabellino rotta sull'Austria un 1-1 che non soddisfa l'argentino campione del mondo. Pronto però a caricare da leader la squadra e tutto l'ambiente sui social. Triste per il risultato ma dobbiamo guardare avanti. Focosa giovedì. Dai Roma il messaggio lanciato su Instagram, con l'emoticon di un lupo a corredo, dalla Joia giallorossa. Che punta dunque l'andata dello spareggio di Europa League che vedrà la Roma impegnata in Austria sul campo del Salisburgo.